C'è un errore, c'è un errore, perché non sono Greenlight, essendo Greenlight è molto impegnato, mi sa che stamattina ho una riunione, mi pare che mi avesse a lei, questo cellulare dove ce l'ho, scusa, io sono un po' di fretta, passo dopo, ciao bravo, sono arrivato in ritardo, per favore, potresti giustificare? C'è FP, guarda il libretto arancione, c'è FP, no ITT, ti sembro Greenlight, Greenlight comunque è una riunione, forse è meglio che ti porti in segreteria, no no, Claudio guarda io oggi ho un'altra giornata molto pubblicata, io devo andare... attento guarda, c'è FP, no ITT, ti sembro Greenlight e in ogni caso il direttore mi sembra che stamattina abbia una riunione di line, rispetto di Alberto, Alberto... oggi è una giornata terribile, è uno dei tuoi, sono in grattina... Sì, vado perché sono preoccupatissimo... Prof, prof, mi dovrebbe giustificare, sono arrivato in ritardo... guarda, 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 osserva, c'è FP, ti sembro Greenlight, no Greenlight, Cellini, ITT, devi cercare il tuo direttore, ascolta, in questo momento mi pare che abbia una riunione in rispettoria, e allora credo che tu debba andare alla professoressa Felice, oppure i segreti... Faccio fatica, è difficile, anche oggi, proprio pieno, 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 perché faccio fatica con questo... C'è questo ragazzo di prima che non lo sanno di andare, allora lui vorrebbe... Sì, adesso io... Ecco qua, vado... Dove mando? Dove ti mando?